Io vedo un segno in verde, gli incroci, proprio incrocio a destra e incrocio a sinistra, in arancio i pericoli. Qual è la cosa più strana che ti è mai capitata? Durante il rally dei faraoni in Egitto mi si è rotta la moto e io ho smontato tutto, poi ho visto una pasta, poi non ci stavo, ho messo il nastro americano, neanche quello, il nastro adesivo. E insomma poi alla fine a forza di andare avanti a singhiozzi ho trovato un KTM come il mio, abbandonato di uno che si era ritirato e ho fatto, ho rubato il pezzo. Sei una rallyista, una tabaccaia, un bici del fuoco, come fai a fare tutti questi mestieri? Se uno vuole riesce a fare tutto. Un bel consiglio anche per i nostri ragazzi, vero Maurizio? Beh sì, è affascinante, io sono pigro, non lo farei mai, ma fare un bel rally in moto poi è ancora più bello, certo. Grazie a loro per essere stato con noi, grazie a tutti.